opel un brand che da tanti anni non ci delude mai un brand importante che ci regala sempre dei modelli apprezzatissimi e affidabilità totale a torino opel e teorema opel dove potrete trovare tutta la gamma dei modelli tutti in pronta consegna potrete trovare delle modalità di pagamento particolarmente accattivanti e un'assistenza fino alla fine mi piace partire da un'auto che so che entusiasma moltissimi di voi ed entusiasma anche me che è l'opel corsa guardate la bellezza di questa avventura a fianco a me in questo rosso rubino nella versione design and tech oppure molto bello è anche questo grigio veramente grintoso ed elegante per la versione invece elegance solamente la teorema opel l'opel corsa potrà essere vostra a 154 euro al mese tutto compreso con la formula sempre nuova tutti gli amanti dei suv e dei crossover non possono perdere questa occasione perché da teorema opel sono disponibili gli ultimi due crossland pensate a 199 euro al mese la parola magica qui da teorema opel è pronta consegna pronta consegna per tutti i modelli inclusa anche la mocca e guardate la bellezza del modello qui a fianco a me bicolor rossa e nera con una linea davvero elegante e massima performanza pensate che potrà essere vostra a partire da 259 euro al mese e per gli amanti dell'elettrico non ci facciamo mancare nulla guardate veramente il fascino di questa vettura che ha un grande rispetto per l'ambiente teorema opel ci propone tutta la nuova gamma ma non solo tantissime possibilità e proposte anche per tutti coloro che stessero cercando un'occasione perché abbiamo tantissime vetture legate all'usato alle aziendali ai chilometri zero a questo punto raggiungiamo pino e andiamo a scoprire le offerte di questo mese e siamo in compagna di pino per scoprire tutte le meraviglie appunto che questo mese teorema opel ha pensato per tutti voi che state cercando un'occasione ciao pino ciao federica ben arrivata siamo nel reparto usato un reparto davvero interessante da che cosa partiamo pino partiamo da questa meravigliosa opel crossland è davvero meravigliosa è una vettura che chiaramente appassiona soprattutto tutti gli amanti dei SUV è spaziosissima ma anche compatta con una guida davvero facile è stata immatricolata nel 2019 ha un colore che trovo molto elegante in questa modalità grigio grafene e avrebbe un prezzo di 18.900 euro ma pino noi sappiamo che con la formula sempre nuova riusciamo a dare dei prezzi sempre più accattivanti perché in questo caso può essere riservata ai nostri amici pensa per una cifra di 16.900 euro assolutamente sì hai ragione federica e vogliamo contentare tutti voi signori non solo opel da teorema ma bensì anche altre vetture come questa splendida 500 1200 69 cavalli vettura da neopatentato pensate ha percorso solo 31.000 chilometri abbiamo un prezzo molto interessante 12.900 euro compreso di voltura in questo caso rendiamo felice accontentiamo tutti gli amanti di casa peugeot e tutti gli amanti dei chilometri zero perché qui a fianco a me in questo splendido colore blu metallizzato troviamo una peugeot 3008 che è stata immatricolata nel 2022 ha appunto come vi dicevo percorso zero chilometri avrebbe un prezzo di 33.900 euro ma con la formula sempre nuova attenzione attenzione sarà vostra a 31.900 euro signori questa volta vi presento una splendida c3 e una 1200 un 83 cavalli un allestimento fila percorso 33.000 chilometri e una vettura aziendale state immatricolata nel 2020 con la formula sempre nuova la portate a casa 12.900 euro compreso di voltura ecco io di questa vettura mi sono davvero innamorata fa veramente battere il cuore perché è stilosissima io amo già la 500 in generale ma questa versione è meravigliosa con un colore davvero accattivante e mi piacerebbe moltissimo che qualcuno di voi venisse ad ammirarla a caparrarsela e portarsela a casa pensate che questa vettura è una versione lounge gps è stata immatricolata nel 2015 e potrà essere vostra con una cifra piccolissima perché con la formula sempre nuova potrete avere questa meraviglia a 10.900 euro signori si continua in teorema con la festa dell'usato pensate questa splendida peugeot 208 1.500 turbo diesel listino 16.500 euro solo per voi a 13.500 euro su strada l'esigenza di moltissime persone è quella di avere un piccolo crossover in modo tale da avere chiaramente tutta la capienza di un SUV ma con delle misure più compatte e questo è proprio un esempio questa splendida renault captur 1.5 110 cavalli che è stata immatricolata nel 2018 e in una splendida versione grigio metallizzato e avrebbe un prezzo di 17.900 euro ma con la formula sempre nuova potrà essere vostra ad una cifra ancora più accattivante ovvero a 15.900 euro mi trovo a fianco di una splendida skoda kamik ambition e con questa vettura vi rendiamo davvero felici per due ragioni la prima è che una chilometri zero e in tanti so che la state cercando la seconda pensate che con questa vettura avrete in omaggio il sistema gpl è stata immatricolata nel 2021 avrebbe un prezzo di 22.900 euro ma con la formula sempre nuova 20.900 pino concludiamo in bellezza perché tu sai che i nostri amici da casa amano particolarmente il modello c3 e qui abbiamo delle ottime occasioni raccontaci questa va bene federica questa è una splendida c3 1200 in allestimento shine perciò allestimento più bello ha percorso pensate solo 24.000 chilometri semplicemente una macchina aziendale e del 2020 la nostra richiesta di 14.900 su strada con la formula sempre nuova grazie pino con questo show sicuramente vi abbiamo divertiti vi abbiamo fatto brillare gli occhi ma vi brilleranno ancor più se venite in corsoro 681 ad ammirare queste bellezze proprio proprio di persona e a provarle anche su strada non è vero pino quando volete basta solo una semplice telefonata siamo a completa disposizione perché con teorema opel acquistare è più facile un saluto carissimo naturalmente da teorema opel da auto occasioni da pino e da federica grazie a tutti